Lo stallo prima del momento delle decisioni. Pescara e Teramo, pur con presupposti diversi, vivono momenti paragonabili dal punto di vista della provvisorietà dell'attuale situazione. Quello che c'è, di fatto, è ancora quello che è rimasto rispetto alla stagione appena conclusa. E il resto sono ancora idee, solo idee, per il futuro. Perché il 28 giugno, termine ultimo per l'iscrizione alla prossima Lega Pro, si avvicina. E in ogni caso, la struttura sportiva del 2021-2022 andrà comunque organizzata in qualche modo. In casa bianca-azzurra, quello che è certo è che va individuata la figura del direttore sportivo. Mentre a Teramo, pursi in scadenza il 30 giugno, Sandro Federico potrebbe comunque essere confermato. Questa è la prima sostanziale differenza, tra due club che hanno strade diverse anche dal punto di vista concettuale. A Pescara serve un cambio di rotta dopo lo shock della retrocessione dalla Serie B alla Serie C. Ed è per questo che sono giorni di nomi e voci relative a chi potrebbe essere l'uomo chiamato a ricostruire un progetto rinnovato in tutte o quasi le sue componenti. Il nome più caldo è quello, attualmente, di Pietro Fusco, che a Pescara, peraltro, ha già giocato stagione 2004-2005 e che conosce bene l'Abruzzo perché con gli scarpini ai piedi è stato anche a Castel di Sangro e Lanciano. In settimana potrebbe esserci la scelta da parte del presidente Sebastiani. Individuare il nuovo direttore sportivo consentirebbe di risolvere anche l'enigma relativo alla casella fondamentale del nuovo allenatore. In questo momento c'è ancora Gianluca Grassadonia, ma non è scontata la permanenza del tecnico. Anche se l'ultima parte di annata, a differenza di quanto accade un anno fa per Sottil, potrebbe essere stata utile per strappare il rinnovo. E questa è un'altra sostanziale differenza col Teramo, che invece non avrà più Massimo Paci, accasatosi a Pordenone in Serie B. In casa bianco-rossa la ricerca di un nuovo timoniere invece è scontata, ma anche in questo caso tutto parte da chi si siederà dietro la scrivania. Non è un mistero, il filo rosso che legava pace a Federico e la partenza del primo, tuttavia, non dovrebbe per forza di cose incidere sull'eventuale permanenza del secondo. Altra differenza è quella dell'organico in casa Pescara. Dopo l'ok a prolungare l'avventura di Memushai, anche Balzano potrebbe essere una pedina per la prossima Lega Pro. Anche Masciangelo potrebbe avere un'opportunità in terza serie, ma in generale la necessità è quella di ricostruire, se non da zero, quasi. A Teramo invece, pur con parecchi elementi sotto contratto, per capire se ci sarà rivoluzione o no, c'è da aspettare le eventuali conferme OAD dei protagonisti, molti, in scadenza il prossimo 30 giugno. Se lasceranno in tanti causa mancato rinnovo, allora la rosa che verrà avrà una fisionomia rinnovata per forza di cose. Dovessero invece prevalere le conferme si andrà sulla falsariga della stagione appena conclusa. Una prospettiva impossibile questa per il Delfino, che ha bisogno di dare una ventata nuova ad un ambiente che è reduce da due retrocessioni consecutive. La prima scampata per la questione Trapani, la seconda invece certificata dal campo. L'unico vero punto in comune, però, sembra la ricerca di forze nuove che possano permettere di dare slancio a progetti calcistici, non proprio nella fase ascendente per utilizzare un eufemismo. Sia Sebastiani sia Giacchini cercano introiti per dare nuovo vigore alle loro idee. Sarebbe quello della base societaria del primo tassello, anche antecedente alle architetture calcistiche. Ma di tempo ce n'è pochino di opportunità davvero col contagocce. E chi saprà cogliere l'opportunità giusta, ammesso che ce ne sia una, potrà presentarsi ai nastri di partenza con maggiori velleità.